Tomasi Case! Ben ritrovati, siamo veramente a due passi dal mare per parlare delle case Tomasi. Quindi cosa volete di più? Davvero si fanno due passi e potrete avere la vostra casa dotata di tutti i comfort, con rifiniture di pregio e prima arrivate, prima potrete scegliere naturalmente ville, villette, appartamenti, dove trascorrere il tempo con le vostre famiglie, si vive semplicemente ma bene, si mangia anche benissimo, ci sono delle belle passeggiate da fare con le vostre famiglie, quindi chi mi è lì o di Gianfranco Tomasi per parlarci proprio delle case, della Tomasi Case, da ben 40 anni per voi? Queste costruzioni si trovano a 30 metri dalla Battigia, stiamo parlando proprio di 30 metri, c'è la strada, a destra ci sono le costruzioni, qui c'è la Battigia, c'è il mare, è una cosa unica, e non abbiamo solo queste, ne abbiamo tante altre in tutti i lidi, a prezzi molto convenienti, interessanti, ma soprattutto case finite bene, con l'aria condizionata, con il riscaldamento, arredati, con giardino grande, con giardino meno grande, ne abbiamo di tutte le qualità, di tutte le misure e di tutte le superfici. Sono case fantastiche, prezzo molto interessante, ma soprattutto in questi lidi si sta molto bene, Comacchio è un paese fantastico, gli amministratori puntano sul turismo, stanno creando molti incentivi, c'è l'ambiente, c'è la natura, c'è di tutto, qui si mangia bene perché abbiamo dei ottimi ristoranti, l'anguille di Comacchio, veramente è un bel vivere, con tranquillità, ma soprattutto è molto interessante le nostre costruzioni, che oggi vi diamo un prodotto valido, fantastico, a prezzi molto interessanti, senza nessun impegno da parte vostra veniteci a trovare, perché vedrete che forse troveremo, sicuramente io penso, troveremo le condizioni per consegnarvi una bella casa a prezzi interessanti, ma soprattutto da una famiglia che io rappresento da oltre 40 anni, una garanzia tranquilla, trasparente, non ci sono ipoteche, pertanto potete rogitarle anche domani, ma parliamo di un prodotto sempre ultimato, pronto consegne, che da domani potete godervi la vostra casa, vero Giulia? Proprio così, perché sono case sicure, poi con il giardino, dove giocare tranquillamente con i vostri bimbi, le spiagge anche sono ampie, quindi noi vi aspettiamo per vedere da vicino la qualità della Tomasi Case, cliccate il sito, è sempre molto completo e aggiornato, perché ci sono delle iniziative tutto l'anno, Tomasi Case, quindi telefonate anche al numero verde che vedete in sovraimpressione, noi vi aspettiamo, ciao e alla prossima con la Tomasi Case!